Certamente Bitcoin non è moneta transazionale non ha fatto un buon affare chi ha comprato due pizze nel 2010 pagando le 10.000 Bitcoin, cioè 600 milioni di dollari al cambio attuale nonostante questo, la sua efficienza nel trasmettere valore a livello globale in maniera sostanzialmente istantanea e incensurabile ha evidenziato l'inefficienza dei sistemi di pagamento attuali facendo aumentare la pressione sulle banche centrali perché offrano una qualche forma di contante digitale che possa rappresentare un efficiente strumento di pagamento finalmente al passo con i tempi Ma i progetti di contante digitale sono stati in passato fermati anche il progetto di intesa San Paolo del 2017 pur riconoscendone i vantaggi per risparmiatori e consumatori i banchieri centrali temevano e temono che un accesso indiscriminato al contante digitale porti risparmiatori verso la banca centrale a discapito del sistema bancario commerciale e dei suoi meccanismi di raccolta con effetti disastrosi sui processi di trasmissione della politica monetaria Ma oltre a Bitcoin, preme oggi sulle banche centrali anche Facebook e il suo progetto di moneta privata, noto come Libra e recentemente ridenominato di IEM Facebook è stata fermata da un'alzata di scudi su entrambe le sponde dell'Atlantico Gli Stati Uniti sono infatti preoccupati di qualsiasi cosa faccia concorrenza al dollaro come moneta di riferimento internazionale e l'Europa considera la sovranità monetaria un dogma indiscutibile Ma c'è soprattutto il tentativo cinese di rafforzare lo yuan come moneta di riferimento internazionale rendendolo disponibile come contante digitale Si è arrivati persino a temere che la Cina potesse strizzare l'occhio alla criminalità internazionale rendendo l'anonimato delle transazioni un vantaggio competitivo rispetto al dollaro Nonostante le smentite della banca centrale cinese gli Stati Uniti restano preoccupati L'Europa teme di vedere l'euro stritolato dalla competizione tra dollaro e yuan Per questo l'iniziativa su un contante digitale di banca centrale è stata rilanciata Fabio Panetta, rappresentante della Banca d'Italia nel direttorio della Banca Centrale Europea ha recentemente chiarito che l'euro digitale avrebbe comunque un limite massimo per persona fissato a 3.000 euro oltre il quale verrebbero applicati tasse di interesse negativi Le banche commerciali tirano quindi un respiro di sollievo ma questa impostazione ucciderebbe le carte di credito e di debito Sembra insomma impossibile che l'innovazione del contante digitale non pretenda una qualche vittima sacrificale Per questo Christine Lagarde ha chiarito che il progetto non è ancora approvato e comunque ha un orizzonte di almeno 4 anni un tempo geologico rispetto alla velocità di innovazione in ambito digitale un ritardo che evidenzia l'affanno delle banche centrali Nel frattempo l'ingegneria monetaria ruota attorno a Bitcoin come possibile riserva per future monete private che adotteranno un Bitcoin standard come versione rivista e corretta da the gold standard Queste monete potranno essere la realizzazione del sogno di Frederick Hayek premio Nobel per l'economia di concorrenza tra monete private e monete sovrani Insomma, accerchiate dal loro digitale Bitcoin dalle monete private dei giganti del web e dalla Cina le banche centrali scoprono l'innovazione dell'ingegneria monetaria come trincea di guerre geopolitiche e la banca dei regolamenti internazionali tenta proprio di coordinare gli sforzi delle diverse banche centrali sul tema il contante digitale